Da alcuni mesi ad Asso, sulla strada provinciale, è entrato in funzione l'autovelox, il velo-key, che viene periodicamente inserito nei bidoncini arancioni a lato della strada. Per chiarire alcuni aspetti di questo servizio al trasporto stradale, con noi è il capogruppo di maggioranza nel Consiglio Comunale ad Asso, l'Avvocato Roberto Melchiore, che ringraziamo. Allora, Avvocato, vogliamo chiarire quelli che sono aspetti che sono sorti anche sui giornali, sulla stampa locale. Qualcuno si è lamentato per il fatto che questo autovelox, pur funzionando periodicamente, sta creando qualche problema. Allora, intanto vi ringrazio a nome dell'amministrazione per lo spazio che ci concedete, per far sì che a chi non fosse chiaro qualche aspetto si potesse comunque in ogni caso arrivare ad un punto in cui la trasparenza possa prevalere su quelli che possano essere eventuali dubbi ancora permanenti. Intanto è giusto chiamarli come apparecchi velo-key. A me spiace leggere bidoncini o altre denominazioni che vengono date a questi strumenti, perché sono costati, hanno avuto comunque in caso una spesa e questa spesa sta portando immediatamente i suoi frutti. A chi ci richiama alla legalità segnaliamo con un po' di dispiacere, appunto perché si tratta di amministratori pubblici come noi, che non c'è nulla di legale, perché lo strumento è stato approntato regolarmente, è regolarmente tarato e omologato, utilizzato ai sensi della normativa. Quindi con la presenza del nostro comandante della polizia locale, che si occupa appunto dell'aspetto sia dell'installazione della rilevazione mobile, perché non è un'installazione fissa. Il contenitore nella maggior parte del tempo è naturalmente vuoto, all'interno durante le rilevazioni viene installata l'apparecchiatura che rileva. Ecco, ricordiamolo brevemente, sono tre bidoncini, cosiddetti bidoncini arancioni, che sono stati dislocati sulla strada provinciale nel territorio di Asso. In questi tre bidoncini periodicamente viene inserito l'autovelox. Esatto, in via alternativa, quindi se c'è in un'apparecchiatura non c'è nell'altra. Il presidio del nostro comandante è fondamentale per evitare eventuali manomissioni. Il controllo è contestuale. Fondamentale ed obbligatorio. Assolutamente, previsto appunto da normativa, il presidio è quello. Il controllo sulla apparecchiatura è effettuato tramite un computer portatile che è collegato in wireless con l'apparecchio e che consente appunto ad una distanza ravvicinata di mantenere un controllo immediato su quanto avviene e su quelle che sono le rilevazioni. Quindi tutto regolare per quanto riguarda la presenza del vigile nei pressi dell'autovelox e poi c'è anche l'aspetto della segnalazione. L'autovelox quando è in funzione viene segnalato da un apposito cartello. C'è un apposito cartello che viene posizionato ad almeno 80 metri dal punto di rilevazione, che è assolutamente visibile, così come sono altrettanto abbondantemente visibili i nostri bidoncini, perché sia il colore, sia la grandezza, sia il posizionamento li rendono appunto visibili da una distanza ampia, che è quello il nostro scopo principale, ovvero la visibilità. Visibilità che consente all'utente di rallentare. È quello lo scopo ed è un unico scopo. La contestazione a questo punto è immediata? La contestazione è immediata ai sensi dell'articolo 200 del codice della strada, ma lo stesso articolo consente in quello successivo, quindi al 201 del codice della strada, una contestazione differita in casi particolari a seconda appunto delle esigenze e delle tipologie delle strade. Nel nostro caso, avendo un accertamento di una violazione che è contestuale o immediatamente successiva al passaggio stesso del veicolo, non vi è la possibilità nel nostro caso di provvedere ad una contestazione immediata di quella che è la violazione. Tra l'altro, in questa situazione, noi non solo non ha l'obbligo per questa ragione, ma anche per altre motivazioni che sono di carattere organizzativo, sia dell'ufficio ma anche della tipologia di strada. Conosciamo benissimo questa strada provinciale, sappiamo benissimo che non vi sono aree che consentono di fermare un'autovettura in questo tratto in sicurezza. E quindi non è possibile pensare di far prevalere l'obbligo di contestazione immediata, al quale poi la stessa norma deroga in casi particolari, per poi andare contro a quella che è la sicurezza dell'utente. Quindi l'utente della strada, la sicurezza è al primo posto. A sconto anche poi di non dover contestare immediatamente, che ripetiamo, è espressamente previsto dall'articolo 201 del codice della strada e della norme attuative del codice della strada stesso. Il limite in questo tratto di strada provinciale è di 50 km orari. Esatto, noi ci troviamo in un tratto che passa all'interno del paese, è un tratto urbano, il limite non lo abbiamo stabilito né noi né le precedenti amministrazioni, ma è stabilito dal codice della strada, che per i tratti urbani prevede un limite di 50 km all'ora. E nonostante ci sia questo limite da sempre, abbiamo assistito negli anni pregressi a gravissimi incidenti, a perdite di vite umane e dopo un'attenta riflessione e vari tentativi per trovare una soluzione, alla fine forse ce l'abbiamo fatta, perché i dati ad oggi a distanza di un anno dalle prime applicazioni ci danno ragione. Abbiamo ridotto semplicemente le sanzioni, quindi siamo passati da oltre 280 sanzioni all'anno ad essere quest'anno a settembre con 90 sanzioni per violazione del codice della strada, in particolare sulla velocità ed inoltre anche una brevissima osservazione a chi ci ha dita di aver messo le mani in tasca agli utenti della strada, il bilancio è pubblico, è lì da vedersi e a bilancio noi abbiamo per l'anno passato quasi 10 mila Euro di introiti per violazioni al codice della strada, quest'anno a settembre, fine settembre, quindi 9 mesi abbiamo circa 4.500 Euro, quindi il bilancio è addirittura un introito inferiore per quelle che sono le casse comunali, ma il nostro scopo è dimostrato appunto da questo, dal fatto che le persone rallentano, gli incidenti si sono sensibilmente ridotti e qual è il nostro scopo? 50 all'ora ma la normativa prevede una precisa tolleranza. Esatto, ed è imposta in un minimo del 5% con una velocità che deve essere applicata in riduzione inferiore ai 100 km orari di almeno 5 km orari, il che vuol dire che vi ha una tolleranza entro i 100 km orari fino a 5 km orari, quindi se il limite è di 50 come per la nostra strada, fino ai 55 km orari segnati dalla strumentazione che ricordiamo omologata e tarata dal Ministero, evidentemente sarà non passibile di una sanzione. Al km 56 è inevitabile, abbiamo un sistema metrico che comporta l'applicazione delle unità e anche solo una unità per quanto possa far arrabbiare deve scontare quello che è la sanzione. E questo sistema non prevede discrezionalità da parte del DG? La discrezionalità è assolutamente vietata alla pubblica amministrazione, la pubblica amministrazione si deve attenere a quelle che sono le normative perché altrimenti l'applicazione di discrezionalità comporterebbe una disparità di trattamento e quindi i cittadini sono tutti quanti uguali e non solo davanti alla legge ma anche davanti e soprattutto alla pubblica amministrazione perché altrimenti non ci sarebbe motivo di decidere diversamente da quella che è la norma. Abbiamo una norma chiara, basta applicarla. Quindi è bene dirlo, oltre i 55 km orari, 56-57 km orari, nessuno ha la possibilità, nessuno nel vigile, nel sindaco, qualsiasi altra autorità ha la possibilità di derogare da quelle che sono le normative del codice della strada. E questo è un minimo di garanzia che deve essere riservato all'utente della strada per tutto quello che è. Ultime considerazioni le lascio a lei, eventualmente se ha da precisare ancora ulteriori... Siamo assolutamente soddisfatti, siamo soddisfatti perché è uno strumento che sta consentendo di abbattere sensibilmente quello che era il rischio e il nostro pericolo che affrontavamo noi utenti come tutti quanti i nostri residenti ma anche chi passa spesso dalle nostre zone anche solo per questioni di villeggiatura. Ripeto, ancora con grande rammarico ci troviamo a leggere determinate affermazioni da chi l'amministratore, lo fa anche da più tempo di noi ma d'altra parte non possiamo far altro che continuare nella nostra strada considerando che di fatto qualcosa di buono abbiamo fatto. Allora ringraziamo per la precisione e la completezza degli argomenti l'Avvocato Roberto Melchiorre, Capogruppo di maggioranza in Consiglio Comunale Adasso. Grazie Grazie